salve buonasera a tutti vi ringraziamo per la partecipazione a questo webinar e vediamo che state entrando crescete di numero mano a mano allora vi do il benvenuto da parte di form expia e il dipartimento per la trasformazione digitale agit e form expia hanno ideato questo corso pilota che è rivolto a dei team multidisciplinari che operano appunto all'interno della pubblica amministrazione ed è un percorso che fornisce ai partecipanti come avete letto sulla pagina di eventi pia una panoramica complessiva sul percorso di progettazione sviluppo e derogazione di servizi pubblici digitali a misura di cittadino come sapete il corso si articola in quattro webinar è appunto un ciclo costituito da un ciclo di webinar e le quattro sessioni online di cui avete visto un'anteprima sempre sulla pagina di eventi pia sono della durata di due ore ciascuno esattamente si ripeteranno allo stesso orario di oggi per i prossimi martedì fino al 6 luglio fino al 13 luglio scusate e si terranno sempre dalle 14 e 30 alle 16 e 30 e come sapete abbiamo chiesto la frequenza ad almeno tre webinar su quattro per ottenere poi l'attestato che vi verrà rilasciato da da agit e vi chiediamo anche di appunto di dirci di dirci contestualmente se avete delle persone che sono iscritte insieme a voi tra le domande che abbiamo ricevuto per capire appunto quanti di voi lavorano insieme allora eh questa eh questa versione questa sessione di corso è un corso pilota eh abbiamo limitato le iscrizioni perché eh vorremmo calibrare insieme a voi eh sia i contenuti sia le modalità di erogazione di questo corso per arrivare a progettare in maniera un po' più raffinata eh con gli stessi contenuti una seconda edizione che eh abbiamo programmato in autunno quindi fra settembre ottobre subito al ritorno dalle vacanze quindi contiamo anche su di voi sulle vostre osservazioni per capire appunto quali sono gli argomenti che eventualmente vanno integrati o approfonditi o chiariti. Allora io vedo che siete eh sempre più numerosi e vi ricordo che il programma di oggi dopo questa mia breve introduzione eh ci sarà eh ci saranno le comunicazioni della prima parte che sono affidate a Francesco Zaia che è un service owner designers Italia Dipartimento per la trasformazione digitale e eh vi arriveremo appunto fino al le sue comunicazioni riguardano dalla progettazione allo sviluppo fino alla messa in produzione designers Italia il punto di riferimento per la progettazione di servizi digitali ci sarà una breve sessione di domande e risposte alla fine di questa comunicazione una pausa e poi riprenderà Ilaria Scarpellini che è un service designer sempre del dipartimento per la trasformazione digitale che vi parlerà di progettazione virtuosa di servizi digitali e delle competenze che servono per la progettazione virtuosa eh ci sarà anche qui una sessione di domande e risposte e delle conclusioni delle brevi conclusioni da parte di Agid non è presente Rosa Maria Barrese ma eh c'è un degno sostituto che è Stelio Pagnotta che eh sicuramente molti di voi già conoscono perché partecipa sempre alle nostre iniziative allora io eh smetto eh la mia presentazione abbiamo in questo momento 93 partecipanti e lascio la parola a Francesco Zaia che ha preparato delle slide che adesso appunto ci apprestiamo a inserire ecco Francesco prova a parlare vediamo se ci siamo ci siamo mi sentite ci siamo ti sentiamo bene allora disattivo webcam e microfono e attivo il contatore buona relazione grazie grazie Patrizia grazie a tutti innanzitutto per aver risposto al questionario che abbiamo mandato qualche giorno fa e grazie a questo abbiamo capito un pochino che eh molti di voi alcuni di voi in realtà non 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 più della metà conoscono già Designers Italia e altri invece ancora non lo conoscono eh questo purtroppo crea un po' di problemi nel senso che comunque qualcosina dovremmo ripeterla per chi non conosce il progetto per chi non conosce Designers Italia e Developers Italia ma sicuramente penso che in particolare dall'intervento di Ilaria in poi eh diventerà assolutamente interessante e anch'io cercherò di inserire un po' di novità eh in modo che non risulti noioso anche alle persone che già conoscono il progetto e che già magari hanno collaborato con noi o comunque insomma eh conoscono un po' quello che è stato fatto in passato parto quindi eh va bene salto l'agenda perché tanto è già stata illustrata benissimo da Patrizia e vi esorto di nuovo eh man mano che parlerò a scrivere direttamente le vostre domande in chat e vedremo alla fine dell'intervento come 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 rispondere eh inizio dal contesto ovviamente mi sembra la cosa più più adeguata da fare eh in questo caso eh il contesto è molto frammentato come sappiamo bene l'Italia è un paese eh meraviglioso però è molto frammentato i comuni sono piccoli e gli enti sono tantissimi e come sapete abbiamo più di 22.000 pubbliche amministrazioni questo si traduce in una quantità di servizi al cittadino eh i siti ad esempio per fare l'esempio più classico che tutti conosciamo che probabilmente sono sull'ordine delle centinaia di una centinaia migliaia così a spanne se immaginate anche un comune piccolo come può essere Rovigo può essere appunto Modena e così via una piccola città ma anche i piccoli comuni hanno servizi che acquistano magari già fatti eh e quindi oltre al sito comunque eh gestiscono piattaforme e piattaformine e software di vario tipo che eh creano un ecosistema di software un ecosistema poi di servizi al cittadino assolutamente frammentato e complesso e tutto questo molto spesso è lasciato anche un po' al caso diciamo così mi spiego meglio nel senso che comunque ehm i fornitori delle pubbliche amministrazioni alle quali queste si 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 affidano eh sono comunque agenzie di varie di vario tipo di varia dimensione e di varie capacità e di varie abilità insomma quindi ci sono quelli che sono un po' più bravi che si che seguono un po' le direttive che vengono date eh quelli un po' bravi per conto loro perché sono bravi e quindi lavorano comunque bene e quelli meno bravi che eh insomma portano a casa risultato con il minore sforzo possibile e quindi insomma poi danno anche ai nostri connazionali un un risultato di qualità peggiore e questo in in modo assolutamente poco eh come dire spesso poco controllabile dal povero responsabile della transizione digitale o dalla persona che spesso si occupa di di seguire questa cosa questo chiaramente crea una sorta di di difficoltà per i cittadini qui ho riportato una serie di di siti diciamo assolutamente presi eh a campione della pubblica amministrazione in cui vedete banalmente che non hanno alcuna omogeneità tra di essi e anzi probabilmente spesso si nota anche che è un sito della pubblica amministrazione perché appunto ha qualche anno di troppo sulle spalle e questo sicuramente non è assolutamente un bene questo in cosa si traduce si traduce nel fatto che eh pur pur essendo eh l'offerta dei servizi italiani assolutamente in linea con la media europea quindi stiamo parlando eh di un'offerta che va attorno al ai 92 punti su 100 quindi insomma la media europea è di 90 punti l'Italia sta addirittura sopra la media europea in termini di offerta di servizio questo significa quanti servizi sono disponibili ai cittadini italiani purtroppo però pecchiamo molto anzi moltissimo poi nel percentuale di utenti che riescono a concludere una transazione o comunque a ricevere il proprio servizio in modo esclusivamente digitale e quindi si devono poi rivolgere che ne so al tabaccaio al comune alla scuola o a qualsiasi altra persona fisica che possa dar loro una mano a ad ottenere il servizio che cercano in pratica questo riesce a farlo praticamente un cittadino su tre in Italia in media mentre un cittadino su due per l'Europa ed è una bella differenza rispetto a quello che vedevamo sulla parte sinistra dello schermo noi ci siamo ci siamo chiesti questa cosa più volte come team all'interno del dipartimento della trasformazione digitale e ci siamo dati delle risposte ci siamo dati risposte di vario tipo che comunque sicuramente non dipende soltanto da un fattore ma dipende sicuramente da più fattori che adesso proveremo un pochino assieme a capire quali possano essere e di conseguenza capire quelle che sono le azioni da parte del dipartimento sulla trasformazione digitale e quindi come migliorare questo divario enorme che ancora l'Italia ha nei confronti dell'Europa ma in generale insomma nei confronti dei cittadini quindi andando avanti scusate quindi questa questa cosa si può questo divario che c'è sul digitale è comunque qualcosa che si può risolvere ovviamente in modo banale formando le persone e creando dei servizi più inclusivi sia i cittadini che anche l'APA che anche per i dipendenti dell'APA questo è un punto abbastanza importante può sembrare una banalità però se immaginiamo ad esempio la formazione dell'APA cioè spessissimo i dipendenti della pubblica amministrazione non sanno come fare a formarsi questo specifico caso in cui siamo noi qui è un ottimo esempio ma spesso non è raggiungibile da tutte le persone allo stesso modo ci sono delle azioni di formazione dei cittadini perché comunque al di là dell'afferta dei servizi ci sono anche altri problemi legati più che altro insomma allo scarso interesse sul digitale da parte dei cittadini italiani e questo purtroppo deriva sia dal fatto che probabilmente siamo poco formati in media ma anche dal fatto che comunque appunto come dicevo prima i servizi sono molto frammentati e non veniamo non siamo sempre inclusi immaginiamo i ragazzi giovani ad esempio che sono abituati ad usare social a usare servizi che funzionano benissimo come sono fatti per come sono fatti nel privato e si trovano ad avere a che fare con siti che sono stati fatti magari dieci anni fa e che sono sempre più o meno quelli e che di conseguenza non si confanno proprio per nulla a quello che è il loro modo di navigare sul web e il loro modo di accedere ai servizi digitali che spesso avviene con il cellulare e avviene in modo molto veloce molto smart si aspettano che spesso tutto gli sia dato pronto e che non è una brutta cosa perché lo stato dovrebbe proprio fare questo se pensiamo ad esempio a una dichiarazione dei redditi o a delle pratiche che devono essere fatte online sinceramente anch'io mi aspetto che qualcosa di pronto in più dovrei averlo perché non è giusto che io debba affidarmi a terzi per dover fare alcune cose non è giusto che io debba perdere delle giornate a fare delle fare delle azioni anche online che a volte alla fine costa meno andare andare in comune o andare a risolvere la cosa di persona quindi appunto sì infatti buon tironi vedo andrea tironi ci scrive che il concetto dei giovani è importante sì perché comunque penso che al di là degli anziani di cui spesso tutti facciamo affidamento perché giustamente hanno dei problemi enormi anche gli anziani soprattutto in termini proprio di disabilità spesso quindi questa questa slide che io io e te e tutti vediamo in due colori cioè questa abbastanza accessibile diciamo però può non essere vista nello stesso modo in particolare il logo in basso una persona che ha difficoltà a leggerlo come penso stia succedendo a qualcuno fa fatica a vedere la scritta dipartimento per la trasformazione digitale quindi insomma questo per dire molto in sintesi che come ci dobbiamo occupare dei limiti che hanno le persone che siano anziane che non lo siano però che dobbiamo preoccupare anche proprio della come dire di quelle che sono le usanze perché i nativi digitali cioè i ragazzi che adesso hanno vent'anni innanzitutto sono fondamentali da formare perché sono loro e poi il nostro futuro e sono loro che come dire creeranno una una fiducia nello stato una fiducia nella capacità dello stato di portare il digitale da qui in avanti cosa che per adesso non è così forte per cui insomma c'è anche un tema proprio di l'importanza di questa cosa chiaramente tutto questo diciamo che è in parte indirizzato già dall'europa e dall'italia e dall'italia in sé e questo avviene ho segnato qui cinque punti in realtà le azioni sono molte di più mi vado un attimo delencare prendo un attimo fiato parlo sempre troppo veloce e l'elenco di queste di queste azioni principali sono di diverso tipo sono sia delle azioni di tipo come dire coercitivo di adezioni che comunque l'europa più o meno ci impone o l'italia impone insomma le proprie pubbliche amministrazioni oppure di tipo più più blando quindi dei suggerimenti oppure in questo caso ho anche segnalato il government benchmark perché penso sia importante conoscerlo in quanto è comunque uno strumento di misura di come vanno i servizi quindi vado a dettagliare un po meglio questi cinque punti il primo che ho indicato è il decennio di digitale europeo 2030 che prevede che nel corso di dieci anni perché insomma è stato pubblicato di recente e la totalità dei servizi pubblici principali definiti insomma in questo digital compass in questo decennio digitale europeo sarà disponibile online per le imprese e i cittadini per tutta l'europa per tutti i cittadini europei e quindi insomma è declinato in modo più o meno simile per tutti i paesi che fanno parte dell'europa il 100 per cento dei cittadini europei avrà diritto all'accesso alle cartelle cliniche e su questo cominciamo a renderci conto che l'italia forse non è così al passo perché comunque il fascicolo sanitario elettronico ha ancora dei limiti in italia è gestito a livello regionale e sappiamo che in alcune regioni non è completamente formato e completamente presente l'80 per cento dei cittadini utilizzerà l'identificazione digitale anche questo è qualcosa su cui l'italia deve lavorare ancora perché chiaramente qui c'è un 80 per cento che l'europa definito in questo modo probabilmente perché insomma ci sono dei limiti proprio oggettivi sulla possibilità delle persone di usare identità digitale e su questo l'italia sta lavorando molto al di là della possibilità di migliorare speed su cui penso molti di noi saranno d'accordo si sta lavorando molto in termini di appunto ad esempio gestire le deleghe per i cittadini in modo che comunque un anziano o un ragazzo giovane possa comunque essere avere una delega che faccia in modo che questa persona non sia esattamente impersonificata ma comunque riesca a fare i propri i propri interessi online attraverso un terzo e questo è una cosa molto importante d'altro un altro intervento è quello del single digital gateway che prevede e adesso qui sto sintetizzando molto perché altrimenti vi annoio insomma sono comunque cose molto formali di cui però sto evidenziando come vedete un pochino le cose più importanti quelle che sono quelle che sono le cose che ci sembrano più importanti single digital gateway sono 21 servizi digitali per un totale di più di 500 procedure o comunque giù di lì che dovranno essere dovranno poter essere completati interamente online in tutti i paesi dell'europa entro quattro anni quindi si parla di tempi molto brevi quindi sono sono comunque procedure legate agli eventi della vita come iscriversi a scuola appunto rinnovare la patente cose di questo tipo quindi le cose le 21 cose più importanti che riguardano la vita di una persona dovranno per forza di cose essere disponibili online e questo ce lo ce lo comanda diciamo così se non ce lo regola tramite questo regolamento è l'europa oltre a questo come vedete la seconda parte richiede che queste siano pienamente accessibili agli utenti transfrontaliari per cui se io comunque voglio voglio farlo e sono all'estero posso posso comunque farlo attraverso questo servizio integrato di tutta l'europa e infine chiaramente il principio once only per chi non non ne ha conoscenza si tratta comunque del fatto che una persona possa identificarsi una volta sola attraverso speed ad esempio e possa utilizzare lo stesso servizio senza dover inserire i propri dati anche in tutt'altro sito quindi così per sintetizzare in estremo io posso loggarmi con speed sul sito attraverso insomma un sistema di confederato europeo sul sito di un altro paese per poter fare delle azioni che voglio fare in quel paese come iscrivermi in una scuola danese ad esempio chiaramente è abbastanza ambiziosa questa cosa però attraverso l'interoperabilità dei servizi e attraverso l'interconnessione dei dati questo in teoria è già possibile farlo oggi ovviamente c'è tanto lavoro da fare il terzo punto è quello che vi dicevo prima dell'e-government benchmark che è appunto un misuratore invece quindi non è una direttiva è semplicemente il modo con cui l'europa misura la bontà dei servizi digitali e l'uso delle tecnologie digitali nel settore pubblico in questo ho evidenziato i punti importanti perché poi ne parleremo e si parla di centralità dell'utente quindi si parla del fatto che l'utente deve essere assolutamente importante e centrale nella descrizione di tutti i servizi si parla della trasparenza si parla quindi del fatto che insomma deve essere chiaro e semplice agli utenti quindi scritto anche in modo chiaro cosa che spesso non succede l'informazione data dalle pubbliche amministrazioni la quantità di strumenti digitali che una persona a disposizione e quanto facilmente questo riguarda l'europa ovviamente quanto facilmente i cittadini possono utilizzare i servizi quando si trovano fuori dal proprio territorio nazionale e questo è per quanto riguarda il contesto che riguarda insomma diciamo i servizi digitali in ambito europeo per quanto riguarda invece l'ambito italiano abbiamo il nostro conosciutissimo e spero familiare a molti codice dell'amministrazione digitale che ha ormai un po di anni sulle spalle ma viene comunque costantemente più o meno aggiornato diciamo entro ogni ogni anno comunque viene più o meno aggiornato e di cui che insomma essendo un codice appunto è una una un trattato abbastanza lungo di cui ho evidenziato alcuni articoli che poi saranno funzionali agli interventi all'intervento di laria il mio intervento insomma l'intervento di laria e gli interventi che seguiranno quindi nell'articolo 7 comma 1 si parla di chiunque e questo chiunque lo ha evidenziato da solo proprio perché per evidenziare il fatto che nessuno deve rimanere fuori da tutto questo quando si quando si produce un sito un servizio o comunque un qualsiasi cosa digitale che non deve tagliare fuori nessuna persona quindi chiunque ha diritto di fruire dei servizi quindi ha un diritto lo stato glielo e lo garantisce di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui l'articolo 2 bla 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 in forma digitale e in modo integrato quindi comunque i servizi di avere il diritto di fruire dei servizi digitali è assolutamente previsto dal codice di amministrazione digitale il secondo articolo l'articolo cinquante secondo articolo che cito quindi l'articolo 53 comma 1 anche qui parla di principi di accessibilità di usabilità e di reperibilità quindi deve essere trovabile deve essere usabile deve essere accessibile deve avere una chiarezza di linguaggio deve essere di qualità e deve essere interoperabile ed omogeneo quindi tutte questi questi aggettivi torneranno spesso nelle prossime slide perché comunque sono tutte cose che stiamo cercando di attaccare tra virgolette in modo costruttivo per cercare di portare servizi migliori un altro articolo molto importante più tecnico del codice di amministrazione digitale riguarda invece l'acquisto di software e l'acquisto di piattaforme o di programmi informatici perché le pubbliche amministrazioni hanno il dovere in questo caso invece non un diritto perché ovviamente i diritti cegliano i cittadini pubbliche amministrazioni hanno i doveri di fare una sorta di valutazione comparativa nel momento in cui devono acquistare del software appunto e devono valutare prima di ogni altra opzione le eventuali possibilità che siano gratuite siano libere quindi comunque disponibili a tutti in gergo open source e valutare un catalogo il catalogo del riuso che esiste all'interno delle nostre piattaforme che poi vi descriveremo quindi insomma ci sono ci sono dei vincoli anche in questo senso semplicemente la pubblica amministrazione non dovrebbe prendere la prima offerta che gli arriva sotto mano ma valutare un minimo in primis se ci sono delle soluzioni che permettono di risparmiare a tutti perché magari appunto le necessità di un di monza sono possono essere assimiliabili a quelle di domodossola e così via e quindi possono esserci tante cose di questo tipo allo stesso modo quando una pubblica amministrazione crea del software quindi lo crea lei stessa ha l'obbligo di prenderlo disponibile e rendere disponibile il relativo codice sorgente quindi il sorgente del codice si sente del software per poi lasciarlo a disposizione degli altri delle altre pubbliche amministrazioni questo ovviamente potete intuire che crea comunque un circolo virtuoso che porta la realizzazione di un software quindi insomma il costo da parte speso da parte di una pubblica amministrazione disponibile anche ad altre e queste sono appunto le leggi diciamo le norme che guidano un po la digitalizzazione in italia oltre a molte altre un'altra un altro contesto è infine quello del piano triennale che presumo anche questo molti di voi conoscano e che di cui appunto non mi sto dilungare perché comunque si tratta di un indirizzo triennale appunto per la per l'informatizzazione della pubblica amministrazione italiana però anche qui ricorrono le parole di cui che abbiamo già parlato che abbiamo già discusso scusate riguardanti appunto principio one soil inclusività accessibilità e così via poi in questo in questo contesto diciamo che questo è il contesto diciamo delle 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 norme e delle indicazioni italiane ed europee prendo un pochino noi quindi abbiamo capito che tutto questo questo contesto si rifà spesso alle stesse cose quindi si parla spesso di inclusività di progettazione attorno al cittadino si parla di open source si parla di di non affidare in modo estremamente semplice semplicemente il lavoro ad un esterno aspettare il tempo che ci vuole per svilupparlo e ottenere un servizio a scatole a chiusa ma si tratta di cercare di comprendere quelli che sono esattamente i bisogni che i cittadini hanno magari facendo anche dei test con queste persone magari facendo un'analisi più approfondita di quelli che sono i software che stiamo utilizzando magari cercando di dare una mano anche agli operatori della povera pubblica amministrazione che spesso distrattata e si trova ad utilizzare dei software che risalgono a 20 anni fa e quindi poveracci anche tutte le giornate lavorative diventano una pena e quindi insomma trattiamo bene il cittadino ma trattiamo bene anche i poveri operatori comunali o i poveri rtd che si trovano a dover gestire un milione di cose per fare questo come avete visto i temi sono sono due essenzialmente sono il design quindi la progettazione dei servizi e la tecnologia questa è la conclusione a cui siamo arrivati ormai qualche anno fa per cercare di cambiare un po le carte in tavola questo cosa si in cosa si concretizza si concretizza in un processo di realizzazione dei servizi che preveda due fasi essenzialmente quindi la fase di progettazione la fase di sviluppo e poi per ottenere un servizio pubblico digitale creato centrato realizzato sul cittadino la fase di progettazione è qualcosa che viene accompagnata da parte del dipartimento per trasformazione digitale e da parte di agid attraverso una piattaforma che si chiama designers italia che fa sì appunto che l'italia riesca magari ad avere tra un po di tempo un po alla volta con piccoli passi che però sono già in corso un sistema di governance come scrivo di government scusate come scrivevo con il cittadino al centro la fase di sviluppo invece è accompagnata da un'altra piattaforma che si chiama developers italia quindi sviluppatori italiani per una pubblica amministrazione che sia appunto più libera più inclusiva più moderna e questo questo libera si rifà un po a quell open source di cui parlavamo prima in che sia libera da vincoli sia libera da come dire da da blocchi che pongono magari alcuni fornitori con il proprio login perché magari fanno un software che poi non è non è manutenibile o comunque a cui possono soltanto mettere le mani loro come spesso avviene vi lascio un attimo di contesto giusto perché così capiamo un po meglio di cosa si parla questo it centrale riguarda essenzialmente designers e developers insomma mostra mostra realtà di designers e developers e fornisce delle guide pratiche degli strumenti il contesto di queste due community è condiviso ed è appartenente ad agit e al dipartimento per la trasformazione digitale rispettivamente agit lo vedete sulla destra il dipartimento è quel logo di che vedete sulla sinistra più o meno adesso qui l'ho messa giù per per semplificare un po le la trattazione però in linea di massima insomma diciamo che agit si occupa principalmente della della parte più normativa delle linee guida mentre il dipartimento e assieme all'interno del ministero per la trasformazione transizione scusate digitale per l'innovazione transizione digitale si occupa più dell'indirizzo insomma sul lungo periodo del lavoro e questo è più o meno il contesto in modo che spesso insomma si c'è un po di confusione perché mi rendo conto che a volte ci sovrapponiamo anche noi internamente su alcuni ambiti però purtroppo insomma non è colpa nostra ma è qualcosa che è stato dato tutti sicuramente stiamo lavorando per migliorare le cose quindi insomma avvenendo a noi questo questo it questo designers developers italia condividono alcune cose e si specializzano invece come abbiamo visto su due cose diverse uno sulla progettazione e uno invece sullo sviluppo dei servizi cosa condividono condividono sicuramente una community condividono il rapporto molto diretto con professionisti con fornitori con con interessati appunto anche con i cittadini spesso attraverso vari canali quindi ho citato i due ho citato una chat che è basata su un sistema commerciale che si chiama slack che andremo probabilmente a sostituire a brevissimo spero per cui ho lasciato quella nuvoletta work in progress che vedrete anche in altre slide sulle cose che su cui stiamo lavorando e invece in basso vedete forum italia che ormai un posto dove comunque le persone si trovano a dialogare di problemi di tante cose se è stato è stato un luogo dove è successo il finimondo con l'ultimo cashback l'ultimo cashback dove comunque le persone anche e soprattutto anche i pubblici cittadini insomma riescono a trovarsi a dialogare semplicemente creando un account e discutendo di come funzionano i servizi digitali questi sono due canali ma in realtà designers developers designers italy developers italia sono anche un po una sorta di trade union cioè una sorta di riferimento tra tutti gli attori coinvolti nella trasformazione digitale dei servizi come ho scritto quindi comunque tra le pubbliche amministrazioni tra i fornitori e anche con i cittadini quindi insomma tutto questo compone un qualcosa che 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 sia appunto il punto di riferimento forse è la parola più giusta nel senso che comunque se una pubblica amministrazione vuole avere delle informazioni sullo sviluppo di un servizio sa che può riferirsi a developers italia cioè developers.italia.it molto semplicemente oppure se ha bisogno di informazioni su come fare dei test con utenti come seguire il processo di design come come lavorare ad un servizio user centered può riferirsi a designers italia bevo un attimo scusate bevo un attimo perché anche in realtà stiamo passando alla seconda parte di questo di questa trattazione che riguarda il dettaglio di designers italia designers italia è uno dei due dei due argomenti che ho citato finora delle due piattaforme che ha citato finora ed è quella dedicata alla progettazione durante la seconda parte dell'intervento andremo ad approfondire ulteriormente designers italia io farò una trattazione molto molto alta ma sono sicuro che molte delle domande che mi imporrete anche di approfondimento saranno trattate dopo e anche probabilmente nei prossimi nei prossimi interventi in cui si parlerà anche di developers italia quindi sicuramente avremo modo di approfondire tutte le domande infatti come dicevo all'inizio purtroppo io mi devo ottenere un po più l'onere e l'onore di fare una trattazione più leggera però purtroppo insomma le persone che già conoscono i progetti sicuramente insomma sannoieranno un po detto questo provo a mettere qualcosa interessante anche qui e vorrei farvi ragionare un pochino su questa definizione di servizio che ha dato lui da una del governo inglese l'ex responsabile del design del governo inglese che è che è la seguente un servizio è qualcosa che aiuta qualcuno a fare qualcosa molto semplice è un gioco di parole però spiega molto chiaramente che i servizi sono sono dei verbi non sono dei sostantivi e questo ve lo spiego in modo posso spiegarlo in modo molto semplice anche in italiano cioè un servizio per il cittadino è bere non è una bottiglia d'acqua cioè la bottiglia d'acqua può servire un milione di cose ma in realtà il servizio al cittadino quello di cui ha bisogno il cittadino è bere e non è detto che la bottiglia d'acqua sia il modo con il quale o tutti i cittadini riescono a bere purtroppo come sapete e quindi insomma se lo stato fornisce una bottiglia d'acqua probabilmente può non essere sufficiente e spesso invece quello che avviene è che il lo stato c'è la pubblica amministrazione chiede la fornitura di una bottiglia d'acqua di una cassa d'acqua e dobbiamo cercare un pochino di cambiare anche questa cosa dobbiamo cercare di chi è di fare in modo che la pia chieda la fornitura del servizio per bere i cittadini non tanto della bottiglia d'acqua adesso questo sto partendo per una tangente però insomma avete capito cosa voglio dire questa questo penso sia importante insomma da un certo punto di vista iniziare magari a cercare di capire come i servizi si possano declinare sotto forma diversi di verbi e non sotto forma di sostantivi perché purtroppo tante volte vengono anche spesi tanti soldi per dei servizi che poi cittadini non sanno usare o che o che non soddisfano quello che i cittadini vogliono o che non riescono a coprire alcuni alcuni casi d'uso che i cittadini invece hanno bisogno di gestire io ad esempio ho cambiato recentissimamente la residenza la mia residenza sanitaria però ho iniziato a fare il flusso del vaccino in una regione adesso sono residente in un'altra quindi non oso pensare cosa possa succedere in questo bonus burocratico in cui sono però speriamo va tutto bene in realtà poi con i vaccini c'è un supporto molto buono e anche questo è importante per i cittadini e quindi insomma sono sono molto ottimista diciamo così un'altra cosa importante su questa slide poi vado avanti e anche provare a sostituire la parola servizio con una cosa un po delicata che si chiama empatia cioè nel senso anche l'empatia è qualcosa che aiuta qualcuno a fare qualcosa perché se un cittadino si trova accompagnato si trova comunque aiutato in un percorso da parte dello stato quindi comunque trova una pubblica amministrazione che che lo capisce e che lo aiuta a fare qualcosa sicuramente è d'aiuto insomma e sicuramente si trova più a suo agio nel farlo quante volte abbiamo sentito dire no 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 non so fare speed perché è troppo difficile e non ci capisco niente è chiaro che in questo caso il cittadino andrebbe sostenuto aiutato cioè andrebbe spiegato a cosa può essere utile fare speed per cosa potrebbe essere utile e andrebbe soprattutto sostenuto nel processo di onboarding nel processo di acquisizione di speed e il processo di utilizzo quotidiano di speed perché se ogni se la prima volta che devi cambiare la password te la perdi e non sai più come rimetterla come spesso accade siamo appunto a capo insomma come si dice un po in gergo comunque insomma andando avanti e tornando al nostro designers italia vi spiego un pochino come si configura si configura sotto forma di una piattaforma come dicevo prima ma soprattutto in prima istanza si configura sotto forma di un progetto perché c'è un progetto dietro in fondo quindi comunque c'è un progetto di definizione di quella che è la pubblica amministrazione come un ecosistema di attori quindi insomma qui si parla appunto di cittadini si parla di persone operative di responsabili funzionali di quant'altro quindi si parla di tantissime persone dando avanti questo insomma si parla i fornitori si parla di house e si parla di tante cose e questa è la parte di progettuali designers italia la parte invece di piattaforma è una parte ancora più complessa in cui che si tratta molte cose tratta appunto da un supporto la community fornisce dei servizi fornisce delle testimonianze e quindi cerca di creare tutto una sorta di dialogo che sia supporto del progetto di designers italia quindi della vision di designers italia che mira appunto ad unire le pubbliche amministrazioni e mira ad essere di supporto tutte le pubbliche amministrazioni come lo fa lo fa attraverso questi tre queste tre pallozze questi tre cerchi in cui quelli in basso riguardano gli strumenti che fornisce designers italia che appunto sono essenzialmente delle guide dei kit di design quindi insomma degli strumenti operativi per fare design e dei modelli di sito web di servizio sul lato destra sul lato sinistro vedete invece le testimonianze che consistono in un blog molto semplicemente né più né meno un blog che però ha un certo livello di approfondimento quindi chiediamo delle testimonianze abbastanza approfondite esperienze virtuose della pubblica amministrazione anche in modo che siano di aiuto per poi chi per chi poi arriva dopo e deve fare più o meno le stesse cose infine in alto vedete quest'altro palloncino sotto ha fatto forma di fumetto perché si tratta essenzialmente di dialogo il terzo il terzo argomento diciamo così che tratta design e sitali e che agevola è appunto il dialogo tra le pubbliche amministrazioni fornitori cittadini come ho già detto più volte attraverso il forum attraverso la chat come abbiamo visto prima attraverso le community call che sono una nuova iniziativa che in realtà abbiamo ripreso dal passato ma che insomma abbiamo attivato e disattivato in base anche alle capacità le possibilità che avevamo quindi comunque a delle chiamate a delle chiamate di divulgazione che facciamo e sono chiamate non come questa che sto facendo ora ma chiamate diciamo più dialoganti dialogo quindi comunque si parla di un argomento si decide un argomento a monte e chiunque sia interessato può intervenire e si fa una call online visti tempi purtroppo questo è il modo e si si discute di questo la prossima mi sembra sia il 23 di giugno non vorrei dire una stupidaggine ma siamo sono comunque attualmente attive l'ultimo piano punto di contatto è ovviamente più classico di tutti è la mail a cui invito a scrivere in caso di dubbi che ai contatti chiocceladesigners.italia.it e questo è più o meno il contesto ora andrò ad approfondire nell'ultimissima parte del mio intervento quelli che sono gli strumenti di designers italia quindi la pallina in basso a destra quindi la guida pratica e kit di design e modelli di sito web iniziando da quella che è la guida pratica lo stato da mette a disposizione lo stato agit in generale e comunque insomma agit in collaborazione con il dipartimento mettono a disposizione delle guide e delle delle linee guida per il design nella pubblica della pubblica amministrazione queste linee guida di design finora erano uno strumento a disposizione ma non obbligatorio da utilizzare nel suo nel complesso per le pubbliche amministrazioni siamo in una fase un po delicata su cui appunto un po difficile da spiegare però insomma ce la faremo in una fase un po delicata in cui una piccola parte di queste linee guida viene resa cogente quindi viene resa in termini anche burocratici viene resa obbligatoria da adottare per le pubbliche amministrazioni e viene scorporata invece tutta la parte diciamo di operativa che viene verrà inserita in una guida pratica questo cosa significa che meno roba sarà obbligatoria ma tutto quello che tutto il supporto che diamo alle pubbliche amministrazioni rimarrà esattamente com'è e pian piano proveremo a capire cos'altro si potrà rendere obbligatorio perché ci sono alcune cose che sono facili da rendere obbligatori tra virgolette per tutti perché poi a quel punto ci sono anche delle insomma delle penalità per chi non le segue ce ne sono altre che invece sono molto più complesse perché purtroppo sono legate magari a versioni di software sono legate a un contesto che in continuo cambiamento sono legate a anche banalmente a strumenti probabilmente non mi ricordo che insomma nelle lingue nelle linee guida di design parliamo di software anche commerciale chiaramente non è possibile metterlo in una legge questa questa parte ma dobbiamo un po alla volta riuscire a creare questa questo accoppiamento tra quello che deve essere fatto per forza più o meno e quello che invece può essere fatto sotto forma può essere fatto sotto forma di suggerimento di aiuto alle pubbliche amministrazioni andando a dettagliare un po meglio le cose per chi non le conoscesse mi rendo conto un po complesso però insomma cerco di chiarire un po cos'è questa guida pratica la guida pratica per la progettazione servizi pubblici digitali riguarda essenzialmente quattro parti riguarda la ricerca sull'utente riguarda la progettazione dei servizi riguarda la progettazione anche dei contenuti e riguarda la progettazione dell'interfaccia dell'interfaccia con l'utente dei vari touch point digitali cioè dei vari punti di contatto con i quali le persone i cittadini si interfacciano i servizi digitali che può essere appunto un cellulare può essere un computer ma può essere anche altro un'interfaccia conversazionale un bot su facebook messaggio su whatsapp nel senso niente ci vieta di immaginare raggiungimento di servizi in modalità più adeguate anche a quelli che ai giovani di cui parlavamo prima appunto e questo insomma è la trattazione un po più diciamo prolissa che mettiamo a disposizione attraverso designers italia per quanto riguarda questi quattro grandi capitoli quindi insomma la ricerca con gli utenti cerchiamo di approfondire alcune parti che sono proprio di questa branca della della progettazione assieme al service design e poi invece sulla parte più di interfaccia di contenuto si parla essenzialmente di come sono disegnate le interfacce come poi sono inseriti i contenuti al proprio interno andando avanti vi parlo dei design kit che sono la concretizzazione a livello di strumento di quelle che sono le linee guida quindi comunque trovate all'interno di designers italia degli strumenti già pronti all'uso che aiutano la pubblica amministrazione a realizzare quello che è scritto quello che era scritto nella slide precedente quindi in questo caso possiamo ve ne mostro un paio molto velocemente perché sto quasi anche finendo il tempo e quindi insomma uno di questi è il modello di persona cioè nel senso nel momento in cui si fa una ricerca con gli utenti la routine del ricercatore la routine della persona che fa design e che poi vi spiegherà molto meglio Ilaria è quella anche di cercare di creare delle persone modello tra virgolette che possano identificare chi utilizzerà il servizio quindi in questo caso abbiamo Giovanni il cittadino collaborativo che usa principalmente smartphone e che comunque ci tiene insomma a usare i servizi digitali ma ci può essere anche appunto la signora anziana il ragazzo e quant'altro e questo esercizio è un esercizio in realtà importante per definire appunto le tipologie di utenti che poi andranno ad utilizzare il servizio e quindi capirne un po limiti difficoltà necessità e quant'altro questi strumenti sono disponibili su designers italia sotto forma di modelli che possono essere personalizzati per per l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni allo stesso modo delle personas c'è anche uno schema di user journey che è una pratica molto diffusa nel nell'ambito del del disegno di servizio in cui viene evidenziata invece in particolare insomma i punti dolenti cioè quelli che si chiamano insomma punti di dolore punti di difficoltà della navigazione dell'utente dall'inizio della necessità da di avere di utilizzare un servizio fino al raggiungimento del servizio vero e proprio ad esempio faccio un esempio molto semplice non lo so il login su l'applicazione io ad esempio oppure il login sul sito chiaramente un punto un punto di difficoltà può essere il momento di ricordarsi la password quindi insomma l'onere l'importanza di avere questo questa questa cartellina che aiuti un po a capire quelli che sono i problemi principali è proprio quella di identificare questi punti difficili e cercare di tamponarli nel modo migliore quindi comunque cercare di supportare il cittadino nei momenti in cui è difficile portare avanti l'attuazione del servizio vero e proprio che ne so un altro esempio può essere quello della delle pratiche per la ristrutturazione di una casa in cui ad esempio il cittadino magari può fare la richiesta online ma poi deve aspettare che magari il il comune gli dia dei feedback in questo caso non si sa quanto tempo deve aspettare banalmente inserendo una scrittina che ti dice e contatta questo queste email per aggiornamenti o comunque una stima del tempo che ci possa volere per avere una risposta entro quando insomma ci si sospetta una risposta può essere già un aiuto per il povero cittadino che altrimenti è un po perso un altro strumento è quello della mappa degli attori un'altra un altro tema un altro tema molto importante in ambito in ambito di ricerca di progettazione dei servizi in cui si mette al centro appunto il nostro cittadino tipo e si mettono attorno ad esso tutto tutte le persone che sono sono coinvolte nella strutturazione del servizio adesso non mi dilungo oltre perché voglio finire un po le slide però insomma sono tutti strumenti per per semplificare che aiutano insomma la progettazione dei servizi andando sulla parte un po più semplice forse da comprendere mettiamo a disposizione anche degli strumenti per fare interfacce visibili quindi diciamo esattamente come devono essere fatte alcune parti dei siti e delle applicazioni mobili quindi comunque diciamo quanto deve essere grande quando devono essere grandi i caratteri quelle che sono le regole di accessibilità principali i colori perché insomma sono tutte cose che compongono interfacce usabili quindi queste cose che avete visto un milione di volte nei nostri siti delle pubbliche amministrazioni arrivano da qui quindi definite una tantum un po di tempo fa sono ovviamente in continua evoluzione perché gli strumenti e interfacce tutto quanto sono in evoluzione la tecnologia è in evoluzione continua e questo insomma ha aiutato anche a fare tutto ciò mettiamo a disposizione anche un software che si chiama bootstrap italia per la creazione di siti web esplicitamente che deve essere aggiornato siamo un attimo in fase di valutazione di questo dell'aggiornamento di questa cosa che però appunto già supporta e supporta un'infinità di siti della pubblica amministrazione con successo nel senso che comunque mette a disposizione per 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 chi deve sviluppare i siti già tutto il codice necessario ando avanti o meglio non tutto ma tutto quello che serve per fare l'interfaccia chiaramente la parte di diciamo più strutturali database eccetera rimane onere insomma dei sistemi informativi che comunque hanno disposizione open source e riuso volendo uno step un passo aggiuntivo e poi finisco promesso un passo aggiuntivo nonché l'ultimo l'ultimo capitolo del mio intervento riguarda i modelli di sito web e di servizio che abbiamo messo in piedi alla fine dello scorso anno per comuni scuole principalmente ma che possono essere adattati e potremo insomma in futuro svilupparli anche per altri per altri enti questi modelli prevedono che prevedono di sollevare le singole pubbliche amministrazioni da tutta la fase di ricerca che raccontavo prima quindi in parte sicuramente quindi definiscono già loro stessi come come devono essere fatte alcune cose e adesso vado a dettagliarvele meglio in particolare per i comuni abbiamo fatto una ricerca con le persone quindi abbiamo fatto mesi di ricerca per tirar fuori un architettura dell'informazione come si chiama in gergo quindi comunque come sono messi i contenuti nella pagina web e come e quali contenuti quali tassonomie quali quali voci quali quali nomi dare alle cose per definire appunto dei flussi formalizzati anche per la fruizione dei servizi questo si sia concretizzato ovviamente nella parte esteriore che è il modello di sito in modo molto molto semplice molto visibile in queste due slide questo era il modello principale in realtà quello che c'è dietro è molto più importante spesso si tende a confondere il modello di sito web con soltanto la parte visibile cioè il fatto che nel menu ci sia scritto amministrazione servizi novità e documenti e dati che sono voci di menu codificate ma in realtà dentro quelle voci di menu codificate c'è molto di più c'è una strutturazione dei servizi c'è una strutturazione molto forte di tutti quelli che sono i contenuti cioè ad esempio un singolo servizio è formalmente definito con una serie di parametri che sono gli orari d'apertura una serie di altre cose che sono comunque molto importanti e codificati velocissimamente vi faccio una carrellata rapidissima di quelli che sono alcuni siti che abbiamo già online e quindi basati su questo modello ma giusto per mostrarvi come sia utile e malleabile insomma questo modello che adesso avete avate visto in verde ma che in realtà è personalizzabilissimo questo è il comune di Rimini questo è il comune di Verbania quest'altro è il comune di Cagliari e questo è il comune di Seui che è un comune di 1200 abitanti che appunto è un po' una piccola perla d'orgoglio perché appunto significa anche che i piccoli possono fare quello che fanno i grandi chiaramente con tutti i limiti del caso però se immaginassimo che tutti i comuni italiani abbiano un sito di questo tipo estremamente chiaro perché adesso io non posso dilungarmi molto sul dettaglio però vi assicuro che c'è una strutturazione molto importante dietro si riuscirebbe ad ottenere molto in termini di chiarezza poi per i cittadini ovviamente e di strutturazione dei contenuti e di condivisione dei dati anche tra le varie enti velocemente abbiamo uno modello molto simile per le scuole su cui non posso dilungarmi molto ma che comunque è fatto sulla falsa riga di quello dei comuni e che prevede appunto la realizzazione anche qui di un modello più o meno definito per le scuole quindi comunque in questo caso esiste addirittura un tema WordPress cioè un tema basato sul CMS WordPress che sia più d'aiuto possibile per le scuole che come sappiamo hanno pochissima forza lavoro tipicamente devono farsi le cose in casa perché non hanno molti soldi. L'ultimissima slide che vi presento è un lavoro che è tuttora in essere che questo standard per i servizi cioè i servizi principali stiamo stiamo cercando di tirar fuori quelli che sono i 10 15 servizi più importanti più fondamentali per i cittadini più usati frequentemente e più usati da più persone quindi comunque sia in termini appunto di quantità di utilizzo e di frequenza di utilizzo e stiamo cercando di codificarli in modo chiaro in modo che gli step cioè i passi per pagare una multa i passi per iscrivere il bambino all'asilo o i passi per fare una cilla cioè insomma sportello edilizio quant'altro siano gli stessi esattamente gli stessi eh in tutte in tutti i contesti eh locali italiani questa chiaramente deriva anche da una direttiva della direttiva dell'SDG che vedevamo prima in ambito europeo in realtà è un lavoro che eh avevamo già in corso prima prima di tutto questo è un lavoro come vedete della nuvoletta work in progress ma che spero insomma eh verrà portato avanti anche con l'aiuto del recovery fund e delle possibilità che ci darà questo strumento io con questo se non erro ho finito quindi mi lascio lascio alle vostre domande che andrò a leggere ora perché allora Francesco le vedi le domande? Te le ho riportate? Le sto vedendo grazie alcune alcune sono anticipazioni di approfondimenti che verranno anche nei moduli successivi quindi quando lo ritieni utile puoi anche puoi anche rimandare ai prossimi appuntamenti. Certo grazie beh rispondo velocemente visto che abbiamo questi cinque minuti eh a quelle quelle che vedo che posso a cui posso rispondere a cui so rispondere insomma quindi partendo dalla prima eh l'idea di creare eventi stile hackathon è sicuramente una cosa meravigliosa a mio avviso perché l'abbiamo fatto in passato abbiamo fatto quello che è stato l'hackathon più grande d'Italia a suo tempo che abbiamo abbiamo coinvolto adesso non ricordo esattamente il numero di città comunque insomma tante città italiane un hackathon dislocato in tutte le città italiane più grandi che ha permesso di mettere insieme tantissimi tantissime persone che hanno lavorato sui progetti pubblici a mio avviso è stata un'esperienza che sicuramente va ripetuta eh purtroppo diciamo le contingenze la quantità di roba da fare del quotidiano eh diciamo un po' impedito di organizzarlo perché ha dei costi e ha dei tempi insomma per mettere in piedi tutta questa roba però è una volontà che noi abbiamo e penso che le persone di in particolare di del progetto di VeloPers Italia che eh parleranno poi nel prossimo nel prossimo intervento potranno confermare nel senso che comunque è un tema ovviamente molto più legato al software che legato al design però in realtà eh se cercate su Google qualcosa che si chiama tipo Citizens for the Future quindi la chiamata in inglese i cittadini del futuro abbiamo fatto due eventi anche a Milano e a Roma essenziali soltanto legati al design e questi erano una specie di hackathon perché abbiamo invitato delle persone eh ad immaginare di progettare dei servizi e e quindi questi designer queste persone che lavorano lavoravano nel privato si sono concesse un weekend con noi per discutere appunto di questo quindi è possibile farlo anche per l'ambito del design per quanto sia meno meno usuale a volte insomma per questi per questo tipo di eventi per quanto riguarda invece la certificazione per i professionisti di T purtroppo non so rispondere perché io non sono coinvolto su questa cosa quindi mi riservo insomma di darvi una risposta magari nel prossimo intervento come ci siamo ripromessi di fare però al momento io non so rispondere poi magari non so se gli altri che interverranno potranno potranno dare dei dettagli in più eh per quanto riguarda Github assolutamente fa parte delle piattaforme Github per noi è un supporto software come può essere Google Docs come può essere Microsoft o mille altri software commerciali che esistono e noi a volte le indichiamo tra le piattaforme perché abbiamo un account che si chiama github.com barra Italia dove sono posizionati tutti i software presenti in modalità open source delle nostre dei nostri progetti software appunto nell'ottica di condivisione del codice che raccontavo all'inizio abbiamo scelto questa piattaforma perché è gratuita perché permette quella più usata insomma dai software developer dagli sviluppatori nel mondo e quindi insomma sta tutto lì non l'ho indicato tra le piattaforme perché essendo uno strumento commerciale insomma non fa parte appunto di quelle piattaforme come Designers Italia, Developers Italia che invece sono state fatte ad hoc per con lo scopo appunto di aiutare l'APA italiana. Quanto ritieni sia importante formare anche i fornitori dell'APA ai temi che stai presentando? Questa è un'ottima domanda perché ci abbiamo sbattuto la testa tanto anche noi probabilmente i primissimi anni di Designers Italia sono stati un po' diciamo poco incisivi forse proprio perché ci siamo riferiti soltanto alle pubbliche amministrazioni allora innanzitutto ho sbagliato dire pochi incisivi perché non ne sono stati penso sia stata abbastanza una novità perché l'Italia dopo l'Inghilterra è stato probabilmente il paese europeo che ha avuto un impatto più forte presso la propria pubblica amministrazione con i progetti Designers Italia di Developers Italia questo lo dico con assoluta trasparenza nel senso è verificabile perché insomma si vede i nostri servizi bene o male sono molto ben strutturati in alcuni ambiti e sicuramente le due community sono molto di supporto però appunto come dicevo ci siamo sempre riferiti soltanto all'APA soltanto di recente tramite dei workshop interni in cui abbiamo discusso molto questo tema ci siamo resi conto che effettivamente e faccio un esempio molto semplice alcuni fornitori dei comuni gestiscono centinaia di comuni un fornitore preso come dire un fornitore abbiamo risolto cento pubbliche amministrazioni quindi obiettivamente è ovvio che i fornitori sono molto importanti lì chiaramente si entra in un campo un pochino più spinato di rapporto tra tra la pubblica l'organizzazione e il privato che effettivamente non è sempre immediato da gestire chiaramente tutti gli strumenti di Designers Italia e Developers Italia sono a disposizione e tutto il software che produzcono anche gli attori privati cioè i fornitori dovrebbero e devono essere messi per legge a disposizione di tutti gli altri per cui qui si aprono dei capitoli molto importanti attraverso anche il CAD quindi sì rispondendo alla tua domanda sì stiamo spostando molto anche diciamo il nostro nostro apporto anche nell'ottica di supportare i fornitori infatti ci dà parecchio fastidio quando i fornitori invece vanno per la loro strada senza considerare tutto il lavoro che abbiamo fatto per cercare di dare accessibilità ai nostri servizi anche perché come sapete poi in particolare sul tema accessibilità il privato e il pubblico hanno apporti hanno approcci molto diversi e quindi insomma a volte ciò che produce il privato non è sempre perfettamente accessibile e che invece qualcosa su cui noi teniamo molto adesso io non so se posso andare avanti a oltranza perché abbiamo poco tempo se vogliamo fare la pausa dimmi tu patrizia se posso hai un minuto ok grazie hai un minuto perfetto però rispondo un'altra poi magari le altre me le studio un attimo mentre parla Ilaria e intervengo magari alla fine questa è una bella domanda i modelli personas la lascio in realtà di Ilaria probabilmente perché ne parleremo poi di questa di modelli e di definizioni di personas in realtà il lavoro da il lavoro che facciamo principalmente è quello di coinvolgere tutti gli stakeholder come li chiamano noi cioè tutti tutti i funzionari e dirigenti pubblici che che appunto sono coinvolti nel servizio nella fruizione della definizione dei servizi pubblici quindi quella che si chiama mappa dell'ecosistema nel gergo del design consiste proprio nel farne coinvolgere tutti i funzionari pubblici e gli enti insomma e oltre ai cittadini nella definizione del servizio quindi insomma questo lavoro di usare dei modelli personas per creare delle sorte di modello anche per i dirigenti e funzionari potrebbe essere una buona idea perché appunto ci sono difficoltà anche a volte all'interno tra gli operatori della pubblica amministrazione quindi insomma vanno vanno eh portate avanti anche quelle eh mi fermerai qui anche perché appunto poi non riesco a scorrerle tutte faccio un po' fatica quindi poi magari vado avanti sulle altre dopo allora ok benissimo ci prendiamo i cinque minuti di pausa che avevamo promesso e ci ritroviamo quindici e trentasei qui per la comunicazione di Ilaria va bene a tra poco allora visti e quindi io lascerei senza altri indugi la parola a Ilaria Scarpellini che come vi anticipavo ci racconta della progettazione virtuosa dei servizi digitali e sulle competenze necessarie per realizzarla. Ilaria ci sei? Eccola. Ciao a tutti, buon pomeriggio, mi sentite? Salve a tutti, buon pomeriggio. Parleremo adesso, faremo una breve introduzione alla progettazione alla progettazione virtuosa eh dei servizi digitali. Volevo solo ringraziarvi per tutte le domande e anche quelle a cui non abbiamo avuto occasione di rispondere saranno sicuramente un ottimo contributo per migliorare le slide che presenteremo poi nelle prossime incontri. Per quanto riguarda la progettazione virtuosa partiamo da un concetto fondamentale di cui mi sono resa conto durante poi eh i miei studi tra l'Italia e l'estero. La parola design ci trae sempre in inganno perché ovviamente è un false friend che in italiano viene subito diciamo la tentazione di tradurre con il termine disegnare ma in verità design benché si sia manifestato spesso in forme anche estetiche oggigiorno è sempre meno disegnare ma piuttosto ehm progettare. In effetti anche la Treccani ci dà ragione eh definendo la parola design come effettivamente riferita alla progettazione di oggetti di uso comune ma soprattutto mirante a conciliare funzionalità estetica ed economicità. Quindi ci possiamo riferire al tema del design eh come progettazione. In più ci sono diversi studiosi che hanno fatto delle riflessioni eh che ho piacere di condividere con voi che veramente aiutano a capire qual è poi il perimetro, lo scopo e la funzione del design progettazione ovviamente. Eh per esempio eh Simons eh nelle sue riflessioni eh menziona il fatto che eh in contrapposizione per esempio alle scienze naturali che si occupano di osservare e constatare e studiare come le cose sono il design è una disciplina che si occupa di come le cose dovrebbero o potrebbero essere. Chiamandolo poi progettazione un termine con una radice molto simile al termine proiettare quindi visualizzare in avanti ovviamente ci viene molto più semplice capire quale sia la vera funzione del design ovvero la progettazione. In più possiamo riflettere sul fatto che eh come dice Flusser nella filosofia del design nell'età moderna c'è stata sempre più una eh netta separazione tra quello che è il mondo delle arti e quello della tecnica. Il design infatti ha iniziato ad essere diciamo una disciplina iniziato e poi si è consolidato come una disciplina ehm ponendo proprio andando a formare proprio un ponte tra queste due branche. Vediamo adesso un attimo come mai il perché di questa evoluzione della disciplina che è la progettazione nel senso di design scusatemi. Quindi eh possiamo notare che tutto ha inizio eh con la rivoluzione industriale. Prima di allora l'artigiano era colui che produceva gli oggetti di di uso comune ed era anche un po' artista perché aveva la tecnica ma anche ci metteva diciamo del suo per creare gli oggetti. Con la rivoluzione industriale questo è cambiato proprio per l'ingresso della tecnica all'interno del paradigma come appunto macchinari per la produzione in serie. In questo panorama tutti eh gli oggetti che di solito venivano prodotti attraverso l'artigianato dovevano essere re-ingegnerizzati per andare diciamo a combaciare con le possibilità produttive. Tutto era molto focalizzato sulla produzione tangibile e ovviamente sull'utilizzo di materie prime. Poi durante il corso della storia possiamo notare che alcune evoluzioni come la seconda rivoluzione industriale con le materie plastiche, la nascita dell'ergonomia, la nascita dei prodotti elettronici, piano piano il costo della materia prima necessaria a progettare effettivamente quello che ad oggi chiamiamo prodotto, quindi anche digitale ad esempio, è andato a restringersi a ridursi sempre di più. Nel frattempo quello che è successo è che il ruolo del designer e il design è stato sempre più permeato invece da una dimensione umanistico-sociologica, quindi da un'attenzione sempre più crescente sulle persone. Da cosa è dovuto ciò? Mentre al principio le persone venivano, era diciamo un livello più basico in cui l'importante era raggiungere le masse, quindi dare l'opportunità a tutti di avere accesso a determinati oggetti d'uso comune che prima risultavano giustamente molto più costosi proprio perché prodotti artigianalmente. Poi man mano il ruolo del designer è sempre stato quello di portare nel paradigma in maniera sempre più incisiva le necessità dell'utente. In un primo momento a livello puramente diciamo fisico-biologico che è con la nascita dell'ergonomia ad esempio nel 1940 in cui la progettazione era mirata a migliorare proprio diciamo la comodità degli oggetti. In un secondo momento con la nascita dei prodotti degli apparecchi elettronici è nata anche la necessità in qualche modo di dover esplicitare il funzionamento interno degli apparecchi con delle interfacce. Quindi è proprio nel verso il 1970 che inizia a farsi strada il concetto anche di usabilità legato proprio alla nascita delle interfacce utente per come le intendevamo negli anni 90 quindi ancora con i bottoni fisici. Sempre di più la tecnologia ha portato il design ad occuparsi di temi sempre meno concreti e sempre più astratti come per esempio lo sviluppo, la progettazione e lo sviluppo di servizi ed esperienze utente piuttosto che negli ultimi dieci anni si sta insieme al concetto di system thinking si sta facendo strada anche il concetto di progettazione nell'ambito della pubblica amministrazione e ad oggi il design è sostanzialmente concepito come una disciplina che dà forma e struttura a sistemi complessi. Per quello vediamo che adesso veramente il design è pronto a intervenire sulla pubblica amministrazione diciamo. Proprio perché anche la pubblica amministrazione è caratterizzata da un sistema in cui c'è una molteplicità di elementi di anche livelli di granularità differente, una molteplicità di attori e interazioni con artefatti fisici e digitali spesso in maniera ibrida. Cosa vuol dire design oggi? vuol dire soprattutto come è sempre stato mediare l'equilibrio tra la soddisfazione delle esigenze dell'utente, l'effettiva fattibilità tecnica e tecnologica del progetto e l'applicabilità al contesto in cui avviene che può essere dal punto di vista normativo ad esempio piuttosto che in termini di risorse economiche o tempi. Ecco abbiamo parlato di cosa vuol dire progettare ma forse molti di voi avranno una domanda che è ma progettare cosa? Perché progettare è un termine molto ampio. Beh quando parliamo di design rimane altrettanto ampio parliamo di per esempio progettare un sistema, un processo, possiamo progettare un'interfaccia e persino progettare appunto l'esperienza d'uso di un servizio pubblico digitale che è il tema che affronteremo oggi insieme. Iniziamo dalle basi, cerchiamo insieme di capire qual è poi effettivamente l'archetipo di che cos'è un servizio pubblico digitale. Un servizio pubblico digitale può essere definito come un ecosistema di scambi che possono essere informazioni, transazioni, dati tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni. La chiave di volta di questo ecosistema sono per l'appunto i touch point digitali. Come menzionavo prima all'interno dei servizi da pubblica amministrazione ci sono e come diceva anche Francesco ci sono moltissimi touch point fisici sia più ufficiali come gli sportelli comunali o comunque dei rau sul territorio come possono essere i tabaccai o le edicole. Noi qui ci stiamo focalizzando invece su un servizio che è totalmente fruito in digitale e quindi mediato soprattutto principalmente dai touch point digitali. Quindi i cittadini da una parte fruiscono del servizio tramite touch point digitali e le pubbliche amministrazioni hanno appunto l'opportunità di erogare i loro servizi attraverso i touch point digitali. Qualcuno faceva appunto una domanda molto pertinente riguardo al ruolo dei fornitori in tutto in tutti questi processi virtuosi. Infatti noi riconosciamo al 100% il ruolo dei cosiddetti intermediari all'interno di queste catene di scambio che hanno come appunto carne la pubblica amministrazione che però spessissimo si trova infatti ad appoggiarsi a degli intermediari privati spesso privati che possono fungere da possono giocare un ruolo diretto o indiretto rispetto all'erogazione del servizio. Pensiamo per esempio gli identity provider che consentono di richiedere speed piuttosto che alle software house che si occupano di fornire e gestire tutta la parte di infrastruttura tecnologica che sta dietro ad alcuni dei processi della pubblica amministrazione. Quindi questi flussi, scusatemi, questo modello ci può aiutare a riflettere in tutti gli ambiti dove si parla di servizi pubblici digitali nella pubblica amministrazione. Facendo cosa? Andando a dettagliare poi per ciascun attore e ovviamente capendo quali touch point digitali concorrono e contribuiscono all'esperienza complessiva. Scusate, forse bevo un attimo. Quindi parlando di ecosistema viene da sé parlare anche dell'esperienza utente perché l'ecosistema è il luogo non fisico all'interno del quale l'utente esperisce la frizione del servizio. Quindi iniziamo a chiederci che cos'è l'esperienza utente. Il complesso delle diverse interazioni che influenzano l'esperienza utente avviene all'interno dell'ecosistema. Questo ecosistema può essere considerato sia rispetto alle dimensioni indicate precedentemente, sia ovviamente rispetto anche a una dimensione temporale. Come anticipato in questo ecosistema troviamo sia l'effettiva interazione con il touch point e i processi espressi tramite il touch point, sia tutto quello che riguarda una fase antecedente all'interazione con il touch point e ovviamente anche una fase post di riscontro e assistenza. Il fatto che all'interno dell'esperienza utente ci sia appunto queste diverse fasi ci fa capire che effettivamente la fruizione di un servizio si articola nel tempo prima, durante e dopo l'effettiva interazione con i touch point. Quindi comprendendo molteplici attori che vanno anche al di là del controllo effettivo delle locatorie del servizio. Pensate soltanto al ruolo che hanno i giornali e l'opinione pubblica nella parte di scoperta e coinvolgimento dei cittadini nella fruizione di un determinato servizio. Certo a volte in maniera con un impatto positivo, a volte meno, ma sicuramente è caratterizzante nel contesto della pubblica amministrazione quanto sia importante indirizzare non solo la mera fruizione del servizio, ma anche la scoperta e il coinvolgimento dei cittadini, piuttosto che dare sempre riscontro e assistenza in maniera contestuale e puntuale. Focalizzandoci poi sul nocciolo duro della fruizione del servizio, possiamo riflettere sull'interazione vera e propria con i touch point digitali. Questi touch point digitali sono spesso molteplici, anche semplicemente per un discorso di multicanalità, ma anche perché, come menzionava Francesco all'inizio di questo webinar, l'Italia è una realtà molto frammentata dal punto di vista delle infrastrutture tecnologiche, quindi non possiamo non considerare che i processi che rispecchiano le procedure burocratiche, i processi diciamo tecnologici e tecnici che consentono di erogare il servizio, poi però necessariamente devono passare attraverso questi touch point, quindi i touch point sono effettivamente uno dei focus principali per progettare un servizio efficace, efficiente, inclusivo, accessibile e che funzioni, proprio perché costituiscono diciamo la prima linea di interazione con i cittadini e anche con gli operatori pubblici qualora si trattasse di un'interfaccia all'utilizzo interno della pubblica amministrazione. quindi ovviamente il touch point è il luogo digitale dove avviene, cioè in generale può essere fisico digitale, dove avviene l'interazione effettiva tra l'utente e il servizio e per ora diciamo che principalmente i touch point digitali in questi ultimi dieci anni e anche quindici sono state interfacce prettamente visive, come scherzavo prima negli anni 80, 90, anche 70, erano interfacce molto tattili perché appunto i bottoni erano veri. Adesso siamo passati attraverso un grande focus su quelle che si chiamano graphical user interface, GUI, acronimo, e ci stiamo però invece dirigendo su un grande cambio di paradigma che è quello delle interfacce vocali, come avrete notato, è sempre più in voga il tema delle interazioni vocali. Quindi dopo questa breve introduzione sulla storia della progettazione e per chiarire un po' tutti i diciamo i punti chiave di quello che andremo a spiegare, ovvero il concetto di esperienza utente, il concetto di ecosistema, il concetto di touch point, possiamo andare a vedere poi nel dettaglio come si articola l'approccio proposto da Designers Italia, come si articola in termini di principi, come va a rispecchiarsi poi in una serie di competenze che ha supporto di una progettazione, di un approccio virtuoso e poi in un secondo momento nel prossimo modulo andremo proprio a entrare nel merito e nel dettaglio del processo e dei vari strumenti correlati. Allora, l'approccio di Designers Italia si basa su quattro principi chiave. Ovviamente rispecchiando anche moltissime delle indicazioni date dalle diverse iniziative di digitalizzazione in corso sia a livello europeo che a livello nazionale, come elencava Francesco precedentemente, l'approccio di Designers Italia è innanzitutto utente centrico, quindi sempre il processo di progettazione deve essere portato avanti coinvolgendo l'utente soprattutto nelle fasi iniziali e finali per scoprire nel dettaglio le sue esigenze e per andare poi a validare l'usabilità e accessibilità dei prototipi. Nonostante ciò, l'utente può essere coinvolto in tutte le fasi del processo, anche attraverso ad esempio la coprogettazione e le sessioni partecipate di brainstorming. L'approccio di Designers Italia è anche però sistemico. Come abbiamo visto prima, la storia del design si sta evolvendo. Stiamo capendo sempre di più che, come tra l'altro ci insegna la storia, un approccio troppo incentrato sul protagonismo dell'umano spesso non è sufficiente ad avere veramente un impatto positivo su tutto il sistema. Quindi sempre di più vediamo nell'ambito del design si parla di appunto System Thinking Design. Un approccio sistemico vuol dire prendere in considerazione veramente la picture complessiva, non mi viene una parola in italiano, comunque la visione, il panorama del complesso per veramente capire quanto sono complesse le dinamiche e poterle indirizzare correttamente attraverso le scelte progettuali negli interessi, sì del cittadino e dell'utente, ma anche nelle possibilità della pubblica amministrazione, perché la pubblica amministrazione in fondo sono i cittadini indirettamente. Quindi ovviamente diciamo che l'ambito della pubblica amministrazione rispetto ad altri settori più commerciali ha veramente due utenti io direi, che sono le PA e i cittadini. Detto ciò, la terza caratteristica invece dell'approccio di Designers Italia è di essere un approccio di open design partecipato, ovvero il rispettare una serie di indicazioni che consentono dei processi che siano collaborativi, trasparenti, di condivisione delle risorse, di messa di uso. In ultimo, ma non per questo meno importante, diciamo, il principio che è quello più, il punto chiave dell'approccio che è quello più caratterizzante del concetto di design, che veramente insegnano in qualsiasi scuola, che è il fatto che il design si caratterizza perché è un processo iterativo, ovvero sempre pronto a essere messo, diciamo, ad ogni step della progettazione, poter valutare i progressi e le scelte fatte e continuamente migliorare, sia prima della release di un certo prodotto digitale, sia poi durante il suo ciclo di vita. Infatti l'approccio di Designers Italia è anche data-driven perché crediamo profondamente nel fatto che un approccio trasparente, ovviamente nel rispetto della privacy e della sicurezza di raccolta di dati sull'utilizzo dei servizi digitali, sia l'unica leva possibile per poi andare a innescare delle dinamiche di miglioramento continuo. Scusate, stavo solo guardando di non essere andata troppo lunga, quindi possiamo continuare parlando nel merito di ciascun principio guida da seguire per una progettazione virtuosa. Per veramente avere un approccio utente centrico è importante da un lato comprendere le esigenze e le preferenze degli utenti, anche per soddisfare quali sono le necessità dei cittadini e in ultimo ovviamente migliorare il rapporto con le istituzioni. E poi ovviamente è importante non solo considerare le loro esigenze, ma di base progettare servizi accessibili e conformi ai criteri di usabilità che possono essere ritenuti standard per tutti. Sono proprio il punto di partenza, così che le esperienze d'uso possano essere semplici e non lasciare indietro nessuno. Come menzionava Francesco precedentemente, un approccio di progettazione per i servizi pubblici deve avere come massima aspirazione quella di essere inclusivo e rivolgersi a tutti, dare le stesse opportunità a tutti di fruizione del servizio. Per essere veramente sistemico, l'approccio deve portare avanti i principi chiave del progettare in ottica mobile first in questa epoca storica, quindi questo principio potrebbe cambiare magari tra 10-15 anni e soprattutto considerare che i servizi avvengono in un'ottica di ecosistema multicanale, così che dando più opzioni agli utenti si possa effettivamente ingaggiare un maggior numero di cittadini nel fruire dei servizi digitali e anche avere un'esperienza che dia più riscontro in maniere anche integrate. Infatti è importantissimo pensare a sfruttare tutte le piattaforme che abbiamo costruito negli ultimi 10 anni, credo, in Italia, per esempio le piattaforme abilitanti e in futuro, a brevissimo, l'interoperabilità, così da utilizzare poi l'automazione delle procedure per poter snellire i processi complessi e quindi in ultimo agevolare la fruizione del servizio al cittadino. Un approccio open e partecipato si basa sul mettere a disposizione informazioni sul processo e sui risultati ottenuti, non solo in presa visione, ma anche attivamente proprio essere messi a riutilizzo, quindi non solo riutilizzare gli standard, ma anche condividere poi le migliorie che sono state apportate a valle, così che nessuna pubblica amministrazione si debba trovare nella situazione di reinventare la ruota, ma piuttosto abbia la possibilità di risparmiare risorse per poi investire sulla personalizzazione solo laddove veramente è necessario. Tutto ciò può veramente aiutare a migliorare la fiducia che il cittadino ha nelle istituzioni, perché sappiamo che purtroppo la pubblica amministrazione è sempre stata additata per lo spreco di risorse e quant'altro, quindi questi valori che cerchiamo di portare con l'approccio di Designers Italia vanno poi oltre quello che è l'effettiva progettazione tecnica, ma si parla proprio anche di un messaggio che si può dare ai cittadini durante le loro esperienze di tutti i giorni. Un approccio iterativo si basa sul scegliere poi criteri chiari e strumenti adeguati per effettuare una misurazione dei risultati che siano poi verificabili e valutabili ciclicamente proprio in questa ottica di evoluzione continua e miglioramento continuo. Adesso entreremo un pochino nel dettaglio di cosa vuol dire essere un designer e quali sono le competenze per progettare servizi pubblici digitali, perché soprattutto negli ultimi anni come in tutti i mercati che si rispettino quando c'è una crescita della domanda c'è anche un bel po' di confusione sui nomi che vengono dati alle cose. Innanzitutto cerchiamo di capire insieme chi è il designer. Il designer è il punto di contatto tra i diversi ambiti, come il design è la disciplina che mette in congiunzione la tecnica, l'umanistica e il punto di vista dei processi. Possiamo immaginare che come Designers Italia è il punto di contatto tra la pubblica amministrazione, i fornitori e i cittadini, il designer in generale è colui che si trova a mediare i processi, la tecnologia e le persone. Certo questo forse non ci ha aiutato proprio a definire con un titolo chi è il designer, perché effettivamente questa cosa non è per niente facile. In primis perché come mi ricordo mi disse il rettore dell'università il mio primo giorno di lezione, il design è un modo di ragionare e di operare, quindi di fatto potrebbe e spesso è trasversale a diverse discipline, questo lo dimostriamo ogni qualvolta coinvolgiamo dei team multidisciplinari per esempio in sessioni di coprogettazione o anche gli utenti stessi possono essere coinvolti in sessioni di coprogettazione, quindi il design essendo un modo di ragionare può essere facilitato e indotto attraverso gli strumenti. Di conseguenza un designer deve avere diverse competenze nell'ambito della progettazione che spesso sono trasversali a diversi ambiti e proprio per questo sono difficili da afferrare e mettere su un CV chiaro. Comunque a parte gli scherzi abbiamo definito il ruolo del designer in termini di competenze che deve avere piuttosto che di job title, come si dice, di titoli lavorativi, proprio per disambiguare la confusione che spesso c'è. Quindi speriamo che questa parte della presentazione vi sia poi utile nella vostra esperienza di tutti i giorni qualora doveste approfondire effettivamente che figure servono o magari che tipo di corsi volete fare in futuro per approfondire alcune delle competenze necessarie a svolgere un processo di progettazione che, ci tengo a dirlo in primis, non può essere portato avanti da una persona sola. Cioè se un processo di progettazione dalla ricerca fino al sviluppo permane lo stesso team, diciamo che o sono tutti premi Nobel oppure non è proprio una situazione normale perché vedremo infatti che ci sono alcune competenze necessarie che difficilmente vanno a integrarsi tutte in una figura o tre, quattro figure sole. Quindi la prima competenza è di saper pianificare, gestire e avere un minimo di visione strategica, quindi gestire gli obiettivi definiti con il committente, la fattibilità tecnica e tecnologica e sapere anche valutare insieme ai clienti la desiderabilità delle soluzioni proposte. Questa competenza di solito risiede in coloro che vengono chiamati technical project manager oppure strategic designer piuttosto che coordinatori. Sono coloro che poi si trovano ad avere il compito di tenere traccia dei progressi nel tempo, coordinare il team interno e anche curare la relazione poi con il committente. Una delle competenze essenziali soprattutto vista l'importanza data a un approccio utente centrico è la ricerca utenti. I titoli professionali spesso correlati sono user researcher piuttosto che anche l'antropologo che è un tema che ha una nomenclatura un po' meno in auge al momento ma sicuramente è l'essenza di quello che va a fare un ricercatore che coinvolge gli utenti. La competenza di ricerca utenti consiste nel conoscere metodi e tecniche di coinvolgimento diretto degli utenti, spesso dei cittadini nel nostro caso, e restituire informazioni che siano rilevanti a comprendere il contesto e l'esperienza d'utilizzo del servizio così da poterlo migliorare in ottica di soddisfare le sue esigenze e magari risolvere i problemi attuali. Quindi questa figura sarà quella che è capace di organizzare la ricerca in maniera pertinente al focus del progetto ma anche di pianificare le varie attività, le tempistiche, gli incontri e delle interviste per poi passare a tutta la fase di elaborazione dei dati e in ultimo di sintesi di tutto quello che è stato raccolto in una maniera fruibile poi agli altri interlocutori sia interni che esterni per supportare le scelte in fase poi progettuale. Un altro tipo di ricerca che spesso viene lasciata in disparte e data per scontata, una delle competenze è la ricerca documentale, in inglese viene chiamata desk research e ovviamente anche la ricerca documentale si può avvalere di tutta una serie di tecniche di analisi secondaria, quindi non direttamente coinvolgendo gli utenti che possono essere tecniche però anche per esempio qualitative come possono essere la raccolta di casi studio per identificare le buone pratiche. Questo tipo di ruoli dovrà sapere adattarsi, adattare le tecniche di cui ha conoscenza alle necessità del progetto esplorando trend e tecnologie piuttosto che elaborando i dati provenienti anche da fonti documentali differenti. Qui abbiamo il ricercatore che è più lato quantitativo dello spettro delle ultime competenze che vi ho nominato che è la competenza di analizzare i dati, quindi qui siamo decisamente nel territorio delle tecniche e metodologie di ricerca quantitativa, nello specifico ci riferiamo alla capacità di usare web analytics e analisi dei dati di ricerca del traffico web, spessissimo in relazione anche all'ottimizzazione dei motori di ricerca SEO. I titoli professionali che si occupano di questo tipo, che hanno questo tipo di competenze possono essere i data analyst, i data scientist, i buon vecchi tradizionali statistici e anche figure più afferranti al mondo della comunicazione che si occupano specificamente di SEO. Queste figure si occuperanno di raccogliere, analizzare e interpretare i dati che riguardano il comportamento degli utenti online, ovviamente sempre in forma adeguatamente anonimizzata e in linea con la normativa GDPR che, neanche a dirlo, nel contesto della pubblica amministrazione è il minimo. Ovviamente sono un po' di parte, mentre dico che poi c'è la competenza più importante di tutti ovviamente per progettare, scherzo, servizi pubblici digitali che è la progettazione dei servizi, quindi saper svolgere l'analisi di sistemi complessi, la mappatura del contesto attuale in cui si svolge l'esperienza dell'utente di fruizione di un determinato servizio per poi dare indirizzo strategico alla progettazione del servizio che andrà ad essere. Quindi passare da un servizio analogico, fisico a un servizio digitale ma anche riprogettare un servizio già parzialmente digitale. Perché ci tengo a specificare questo? Perché nel mondo della pubblica amministrazione mi sto accorgendo che sostanzialmente molte volte quando parliamo di digitalizzazione dei servizi in verità intendiamo informatizzazione dei servizi ovvero cambiare la materia di cui sono fatti i servizi passando dal fisico cartaceo al informatico digitale ma non in un'ottica che sia veramente rivedere il processo in ottica digitale. Questa è una differenza veramente sostanziale ci tengo a dirlo, molti voi forse avranno già capito che sto per fare riferimento al concetto per esempio delle code digitali che si sono presentate quando c'è stato il bonus della mobilità. Quello è un classico esempio della replica anche dei problemi di un servizio analogico in digitale che è quello che vogliamo evitare a tutti i costi. e per fare questo i service designer o gli strategic designer si trovano appunto ad analizzare il contesto che c'è per poi definire degli scenari d'uso proiettati nel futuro e modellare i processi e di conseguenza anche i touch point del servizio. Sto anche cercando di leggere un po' le vostre domande nel frattempo. Ok, passiamo adesso alla fase un po' più cordi diciamo delle mani in pasta la competenza di progettazione dell'interazione siamo adesso focalizzati ovviamente su tutto il rapporto tra i processi e i touch point quindi saper definire le caratteristiche dell'interazione che ci sarà e quindi che l'utente esperirà attraverso i touch point fisici o digitali diciamo nel nostro caso miriamo molto di più ai digitali schematizzando i flussi e strutturando la struttura di base dell'interfaccia utente. Questo tipo di figura può essere chiamata interaction designer per esempio io ho studiato come interaction designer può essere chiamata anche UX designer a seconda delle casistiche information architect lo trovo molto calzante in alcuni casi e tutti questi concetti si stanno continuamente trasformando nel mondo odierno perché applicati prettamente al concetto di digitale in verità l'interazione non è nient'altro che uno scambio di input e output tra due entità che tra l'altro al giorno d'oggi possono essere anche due entità digitali come i robot ma diciamo che spessissimo nei nostri casi si parla di un'entità umana che interagisce con un'entità tecnologico digitale. Quindi cosa fa la figura che si occupa di progettare l'interazione? sta effettivamente progettando l'esperienza dell'utente in termini più ampi ovvero che vanno oltre l'interfaccia grafica del touch point quindi progettare il servizio in termini di contenuti e funzionalità ma anche prototipando poi i flussi a diversi livelli di granularità finché si può anche arrivare a dei veri e propri prototipi di interfacce utilizzando wireframe e mockup a diversi livelli di fedeltà Nel frattempo che il progettista dell'interazione e poi quello dell'interfaccia si occupano della parte delle fondamenta dell'edificio che è un touch point digitale la competenza di progettazione dei contenuti incarnata nel content designer, nel web content editor, nel CEO specialist e in altre mille figure che probabilmente si possono trovare andando su LinkedIn sostanzialmente si occupa di mediare le esigenze di comunicazione di impatto visivo ma anche di leggibilità e di accessibilità adettando i messaggi al contesto specifico e all'utente specifico che nel nostro caso è appunto il contesto dei servizi pubblici che è molto diverso da quello che un content designer si trova a fare in un contesto commerciale queste figure si trovano a progettare e realizzare ovviamente i contenuti testuali che si incontrano nei diversi touch point e ottimizzare anche i contenuti nella maniera in cui vengono presentati per ottimizzare la leggibilità e quant'altro e anche la trovabilità attraverso l'ottimizzazione per i motori di ricerca SEO un'altra competenza ovviamente essenziale e diciamo forse quella che è più sotto gli occhi di tutti in questo periodo storico è la progettazione dell'interfaccia tanto è vero che molti altri termini come lo UX designer piuttosto che l'interaction designer poi vengono definiti in base alla loro capacità di progettare un'interfaccia e progettare un'interfaccia vuol dire effettivamente saper tradurre, cioè realizzare il tutto quindi saper tradurre quanto è stato progettato in un progetto grafico che sia completo, coerente e funzionale alle buone pratiche di sviluppo delle interfacce tenendo sempre in considerazione accessibilità e usabilità questa figura realizzerà la vera e propria visualizzazione prototipale dell'interfaccia utente sia per quanto riguarda gli aspetti statici che per quanto riguarda quelli dinamici volevo aprire una parentesi tanto per farvi capire cosa intendo io sono service designer al momento ma in passato mi sono sempre presentata come user experience designer perché appunto avevo questo focus molto forte sull'esperienza delle persone e anche sulla ricerca quando sono tornata in Italia dall'estero dove ho studiato e lavorato ovviamente non riuscivo a trovare lavoro perché nel momento in cui mi presentavo come user experience designer mi veniva sempre richiesta la competenza invece di progettazione dell'interfaccia quindi veramente penso che questa differenziazione per quanto sia magari non immediatamente lampante la differenza è sicuramente utile e spero possa essere un riferimento per voi anche in futuro poi l'interfaccia ovviamente deve essere realizzata quindi la capacità di saper tradurre quanto è stato prodotto in tutte le fasi della progettazione nel vero e proprio prodotto software interattivo quindi integrando sia requisiti di contenuto che di esperienza utente che requisiti tecnici e tenendo in considerazione tutti quei vincoli più di fattibilità e pragmatici come la prestazione, la ricercabilità, la raggiungibilità e sempre accessibilità e usabilità quindi questa persona si trova poi questa figura a sviluppare il codice per il touch point digitale sostanzialmente che può essere un sito web, un'app o anche persino come menzionavo prima delle interfacce conversazionali allora detto questo la riflessione che cercavo di fare con voi all'inizio di questo secondo capitolo è che non basta un designer per fare tutto il processo le fasi del processo di progettazione sono sono diverse scuole possono essere tra 3 e 5 comunque con Designers Italia abbiamo appena rivisto il nostro approccio e processo e stiamo adesso in procinto di iniziare sempre ad adottare e presentare anche alla community un processo che è a 5 fasi e lo scopo di questa tabella che vedete è di far capire come le diverse competenze vadano poi distribuite nelle diverse fasi del processo in maniera più o meno prominente nel prossimo modulo andremo poi a spiegarvi più nel dettaglio il nuovo approccio e processo di design cioè l'approccio che ve l'ho già spiegato quindi come abbiamo riprogettato il nostro stesso processo di progettazione in cinque fasi e il relativo redesign dei kit e degli strumenti a supporto che siamo in procinto poi di lanciare nelle prossime settimane quindi per adesso un piccolo spoiler il prossimo modulo sarà dedicato proprio a vedere la nostra nuova offerta di Designers Italia e lascio la parola al mio collega Francesco se vuole aggiungere qualcosa su questo punto intanto vi ringrazio sì ci sono eccomi non so se mi vedete aspettate un secondo eccomi ma sì le fasi del processo cioè nel senso le avete già un pochino viste da quello che è successo finora da quello che vi ha descritto finora Ilaria per quanto riguarda appunto i vari passi il processo appunto di validazione è quello probabilmente più importante che stiamo cercando di spingere perché pensiamo che troppo spesso la fornitura di un servizio finisca con la messa online di un progetto e invece si debba insomma continuare a fare una sorta di lavoro di validazione e di verifica della qualità e della bontà del servizio sui servizi in particolare stiamo facendo un lavoro anche di come dire di misurazione di indicatori di performance e di qualità sui servizi che sarà fondamentale nei prossimi tempi anche per verificare gli interventi nell'ambito del recovery fund adesso non voglio andare troppo nel dettaglio del processo perché tanto ne parleremo penso ampiamente anche nel prossimo intervento di alcune parti per cui non so vogliamo rispondere alle domande dimmi tu Ilaria cosa avevi cosa vogliamo fare sì grazie stavo dando un'occhiata alle domande comunque insomma approfitto io a rispondere a alcune domande che ho letto nel frattempo così ti lascio un attimo di tempo per respirare allora per quanto riguarda alcuni esempi pratici ottenuti dei risultati ottenuti da Designers Italia ce ne sono molti alcuni sono evidenti come appunto i siti dei comuni delle scuole altri meno come la formazione che stiamo facendo all'interno dell'APA che effettivamente insomma sta cambiando un po' le cose altri sono one shot diciamo così per dirla in inglese nel senso il sito di innovazione Govit è un sito perfettamente accessibile a meno dei poveri PDF che sono allegati come sempre in modo terribile e indipendente dalla nostra volontà però ad esclusione di questo dettaglio cioè i documenti allegati al sito che sono appunto arrivano da enti esterni che insomma hanno i loro limiti nella produzione dei documenti possiamo dire che il sito di innovazione Govit è assolutamente accessibile e testato anche insomma con tutti i dovuti i crismi e questo è un esempio che mi viene in mente al volo però ce ne sono molti altri anche proprio in termini di processo di lavoro insomma adesso insomma sono tanti e speriamo siano sempre di più soprattutto perché insomma c'è tanto da fare la cosa che vorremmo fare di più è effettivamente quello che poi evidenza anche un po' Luca Leonardo Scorcia nel senso che comunque noi lavoriamo molto con il locale devo ammettere con le PAL e meno con le pubbliche organizzazioni centrali proprio perché purtroppo per Luca dobbiamo cercare di mettere a foto al comune quanto più possibile da un certo punto di vista quindi anche la creazione di modelli va proprio in questo senso cioè dare quanto più possibile già pronto proprio perché la fornitura magari si focalizzi su temi più di attenzione al cittadino e attenzione dei sistemi interni e poi nella manutenzione futura dei servizi quindi mi rendo conto che spessissimo ma noi stessi ci troviamo a dover fare dei lavori enormi con pochissimo budget e spesso non c'è modo di fare i test il consiglio che mi sento di dare è probabilmente quello di riusare tante cose che sono già state fatte cioè ad esempio nella fornitura di un servizio cioè nella stesura di un capitolato per la fornitura indicare già tutti quei processi al di là della ricerca che chiaramente è utile ma magari identificare come interfaccia utente quella che già definisce Designers Italia e quella che è definita nelle linee guida di design quindi quella parte non sarà più a carico del fornitore ma sarà già definita quindi tutto il software necessario in parte sarà già sviluppato da quella parte che è già messa a disposizione e quindi insomma magari il fornitore si può occupare un po' di più anche della parte di validazione del risultato finale mi rendo conto che ovviamente bisogna sempre fare un po' i conti con i soldi che abbiamo tutti perché noi per primi avevamo anche in mente di fare una sorta di modello per i ministeri ho visto prima si parlava di un modello per gli enti non mi ricordo più quale tipo di enti ma nel senso anche per la sanità e per i parchi se non sbaglio e anche per la sanità però lì poi si entra in campi spinati perché riguardano altri ministeri riguardano comunque altre cose e non vi nascondo che siamo pochissime persone e purtroppo il tema soldi è un tema che sentiamo noi per primi perché per mettere in piedi un impatto così grande anche noi dovremmo essere molti di più e invece purtroppo a volte dobbiamo mettere da parte dei progetti che ci interessano moltissimo in particolare sulla sanità in sottolino di nuovo o sull'istruzione perché finché avevamo il MIUR con noi siamo riusciti a portare avanti il progetto scuole adesso che la situazione è un po' più difficile ma non per motivi particolari semplicemente insomma ne stiamo discutendo stiamo di nuovo ricercando di avere a bordo anche i ministeri per poter poi portare avanti il lavoro così come è ANCI così come tutti quegli enti intermedi che ci possono aiutare a scalare e come dicevo appunto era previsto anche un modello per i ministeri a un certo punto però purtroppo non abbiamo avuto la forza di farlo questo per rispondere un po' a tutte le cose insieme buttate un po' lì scusate la confusione io aggiungo giusto due risposte un po' puntuali forse ho dimenticato di fare un piccolo disclaimer soprattutto sulla parte di competenza i titoli che abbiamo menzionato come job title relativi alle competenze sono solo alcuni cioè ovviamente per ciascuna lista avremmo dovuto inserire la voce altro puntino puntino in particolare mi riferisco alla domanda di Lorenzo Corradini se non erro sto controllando sì business analyst lo inseriamo immediatamente nella lista come avrete capito abbiamo cercato di dare accento alle competenze proprio perché i nomi sono molto arbitrari sostanzialmente vabbè poi soprattutto quando qualcuno magari ha studiato all'estero qualcuno in Italia cioè anche nei corsi di studio ci sono moltissimi fraintendimenti che ho avuto modo di osservare negli ultimi anni in cui ho insegnato quindi sì erano solo degli esempi e qualsiasi suggerimento su altri ruoli da includere è il benvenuto come dicevo prima design è un modo di pensare quindi sostanzialmente il titolo di lavoro non è limitante volevo rispondere anche invece a Franco Carcillo ti ringrazio per aver fatto questa domanda quindi se ci sono regole su come ingaggiare l'utente finale ecco regole o consigli le regole ci sono sono tante e sono molto limitanti e stringenti sia per questioni di privacy sia per questioni di impossibilità di remunerazione e quant'altro il consiglio è come diceva Francesco anche noi internamente patiamo quasi gli stessi problemi che patite voi anche se in scala diciamo magari un po' maggiore o più ampia è il discorso di appoggiarsi ad associazioni o altri enti che hanno più spazio di manovra nel coinvolgimento degli utenti quindi per esempio se in un progetto viene coinvolto un fornitore quindi assegnato un capitolato per una ricerca a utenti poi la gestione della privacy e il rapporto tra gli utenti e i ricercatori è gestito da una terza parte che non è afferente alla pubblica amministrazione quindi purtroppo è difficile onestamente lo riconosciamo anche noi che una pubblica amministrazione si possa in prima persona esporre a fare direttamente ricerca a utenti certo si può direttamente e formalmente si può sempre fare indirettamente o informalmente io non perdo occasione di parlare con mia mamma che fa la commercialista mia nonna che deve fare lo speed e tutte le persone che sostanzialmente incontro per capire com'è poi che loro percepiscono i servizi pubblici lo trovo un esercizio molto interessante è proprio un cambio di prospettiva l'ultima domanda a cui volevo rispondere velocemente è di Andrea Sergiacomi che appunto fa notare l'argomento di quali piattaforme poter utilizzare per l'attività di collaborazione e coinvolgimento di utenti da remoto ovviamente ci sono tantissimi strumenti online quali sia più o meno lecito o meglio utilizzare è una questione sempre comunque in stato di valutazione anche noi internamente spessissimo ci troviamo a interlocuire anche con delle software house di questo tipo di software perché ovviamente c'è tutto un tema di privacy archiviazione e registrazione e tutela della privacy che può cambiare da provider a provider anche a seconda della loro locazione geografica quindi con questa spero di aver risposto aggiungo solo una piccola cosa stavo rispondendo per iscritto a Franco Scarcillo che aveva fatto una domanda sull'ingaggio di utenti per fare test purtroppo non conosciamo neanche noi associazioni per fare questo in realtà c'è un gruppo di lavoro che sicuramente probabilmente conoscerà già Franco che si chiama IGLU che fa parte di Funzione Pubblica e che ha scritto delle linee guida in passato anche sugli appalti web si chiama proprio appalti web human center design se non erro adesso magari provo a trovare il link lo scrivo anche che però appunto è di qualche anno fa e lì c'è scritto in base alla dimensione dell'attività da fare come ci si può muovere però effettivamente è un lavoro che andrebbe andrebbe un po' migliorato andrebbe un po' esteso probabilmente perché poi quel gruppo di lavoro io non conosco nessuno là dentro per cui sinceramente non conosco neanche più se è attivo Agit so che ha qualche contatto in più però sicuramente insomma se è interessante parliamone su Slack scriveteci vediamo di provare a trovare qualche informazione in più a chiederla ad Agit banalmente in questo caso approfitto per integrare anche la tua risposta sulla prototipazione probabilmente alcuni si troveranno spesati dal fatto che in questo processo non c'è chiaramente la fase di prototipazione questo è dovuto dal fatto che poi possiamo approfondire in seguito il termine cioè il concetto di prototipo può essere a diversi livelli non solo di fedeltà ma anche di astrazione cioè un modello molto rudimentale di prototipo ad esempio è quello che viene chiamato role playing quindi il gioco di mettersi nei panni di qualcuno e simulare una certa interazione finendo con un prototipo con un prototipo completamente funzionante come può essere un primo prototipo già online quindi prototipare è un'attività che prima si inizia meglio è sia nelle prime fasi della progettazione si può sempre come dicevo prima iterare quindi sottoporsi ad un processo di valutazione tramite prototipi più o meno dettagliati tangibili e fedeli e per poi finire ovviamente con la validazione del prototipo per eccellenza che sono i test di usabilità e accessibilità non so se c'è una conclusione dovrebbe esserci qualcuno di Stelio allora eccola sì siamo andati un po' fuori ma non vi ho interrotto sulle risposte allora a questo punto ribadisco quello che avete detto che alcune risposte verranno date negli approfondimenti dei moduli successivi la prossima volta troviamo Ilaria Scarpellini ancora insieme a Daniele Tabellini quindi abbiamo modo anche di fare riferimento a persone che sono in continuità rispetto a questo primo modulo io lascerei la parola a Stelio Pagnotta che si avvia alle conclusioni Stelio ci sei? Sì grazie Patrizia sì in realtà veramente due considerazioni velocissime in chiusura la prima innanzitutto grazie sia Ilaria che a Francesco perché anche per me che poi non sono un tecnico rispetto a questa materia è stata molto interessante e molto formativo e più in generale mi sembra che il tema della della progettazione dei servizi digitali in generale comunque negli ultimi anni stia venendo sempre più fuori anche dal lato della pubblica amministrazione sicuramente questo è l'aspetto veramente interessante perché fino a qualche anno fa almeno quando ho iniziato io a far parte a vario titolo di questo mondo era in qualche modo ancora considerato un tema un po' di nicchia se vogliamo quello della progettazione dei servizi digitali fatti in un certo modo secondo determinati standard pensati in un certo modo e iniziare a vedere come poi anche da un punto di vista normativo vengano vengano recepiti questi questi temi tanto nelle linee guida quanto nel piano triennale prima Francesco ha mostrato i riferimenti al piano triennale all'interno del piano triennale c'è anche uno specifico capitolo tra cui Francesco ha collaborato anzi c'è tanto di suo quindi è importante che questi questi temi in qualche modo inizino ad essere sempre più più sdoganati e non siano ridotti a temi di nicchia anche perché poi di questi tempi ogni anno viene fuori il desi e ci bacchettano perché in Italia utilizziamo poco i servizi digitali in realtà i servizi digitali ci sono ma sono utilizzati poco dai cittadini quindi ovviamente il tema di progettare i servizi digitali in un certo modo è centrale e poi avevo una piccola precisazione o non so aggiunta rispetto al tema delle professioni ICT esiste sicuramente un tema importante perché ora con recovery fund ovviamente con i vari decreti reclutamento piuttosto che tutte le risorse che saranno necessarie individuare bene figure professionali che siano in grado ovviamente di portare avanti progetti e processi di trasformazione digitale è fondamentale a riguardo se può essere utile segnalo che esistono delle linee guida Agid che in qualche modo vanno ad elencare una serie di figure che sono poi molte sono anche quelle riprese da Ilaria che appunto danno una definizione di queste figure sono riprese dalle norme uni e in qualche modo sono un po' datate mi sa del 2018 quindi sicuramente in un ambito che va così veloce potrebbero essere in alcuni punti non esattamente aggiornatissime però può essere sicuramente un riferimento per chi chiaramente vuole avere informazioni al riguardo quindi erano solo questi due conclusione e precisazione poi lascere la parola a Patrizia per dare il prossimo appuntamento che dovrebbe essere il prossimo martedì ma non vorrei sbagliare allora sì io ribadisco che sono un po' offesa perché mancano i sociologi da quelle che invece sono come posso dire fanno tutto 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 quasi quello che si è detto lo fanno da prima che esistesse il digitale allora lo dico perché io sono sociologa allora infatti il progetto della ricerca nella letteratura sociologica si chiama disegno della ricerca tanto per dire quando ancora allora io però su questa nota così un po' polemica vi lascio e vi do appuntamento al prossimo webinar che sarà il 22 di giugno martedì prossimo e vi ricordo che parliamo di strumenti e casi pratici di progettazione quindi entriamo un po' più diciamo nella parte di pratica quindi di presentazione appunto di strumenti che servono appunto per la fase realizzativa e vi ricordo che l'orario è sempre lo stesso dalle 14.30 alle 16.30 mi ringrazio tanto e vi do appuntamento allora a martedì prossimo buon pomeriggio e vi do appuntamento